Ciao ragazzi, benvenuti su Icos for Beginners, io sono Luca e oggi sono qua per appunto presentarvi quello che è il mio nuovo canale. Questo canale nasce essenzialmente perché? Perché una volta rientrato a casa con il nostro dispositivo ho iniziato a farmi qualche domanda, ho iniziato a chiedermi effettivamente come si facesse a fumare questo nuovo dispositivo. Ovviamente ho trovato tante risposte ma forse troppo, come dire, superficiali. Mi piacerebbe approfondire con voi quello che è tutto il mondo Icos. Io purtroppo su YouTube ho trovato veramente poco e spero che il mio canale possa essere d'aiuto sia alle persone nuove che alle persone esperte del mondo di Icos. Anzi, io vi chiedo, chiunque tu sia, chiunque stia o possa guardare questo video, di interagire il più possibile. Se hai delle critiche, a me fanno solo che piacere perché in modo tale che impariamo in due, ci si confronta e quindi si condividerà quello che sarà. Ma ho tante cose da raccontarvi quindi non vi tedio più con questa cavolo di presentazione. Mi ritrovo a condividere con voi questa mia esperienza perché Icos è secondo me una buonissima alternativa al fumo tradizionale. Premetto che Icos sono prodotti per maggiorenni, quindi per fumatori adulti. Se sei minorenne purtroppo ti chiedo di evitarlo questo video perché se non fumi non iniziare neanche a fumare. Se invece sei purtroppo un fumatore accanito di sigarette tradizionali, forse questo video può darti una spinta in più a trovare, come dire, una motivazione per acquistare appunto questo tipo di dispositivo. Inizialmente si hanno un sacco di domande perché comunque ci si deve un pochino abituarsi, soprattutto partendo da una sigaretta tradizionale nessuno ti spiegherà, tutti ti dicono ti ci devi abituare, tutti ti dicono è un qualcosa di diverso. Sì, effettivamente è così, ma ognuno presumo che trovi poi la propria quadra. Innanzitutto abbiamo un caricatore di diverso da quello che sono i pacchetti di sigarette e l'accendino. Questo caricatore va in realtà poi caricato tutti i giorni, almeno io personalmente lo carico tutti i giorni. All'interno del caricatore troviamo appunto il dispositivo che si chiama Holder, Icos lo chiama Holder. Detto in italiano sarebbe titolare. Detto questo, in sostanza come funziona? Tramite questa pennetta si va ad inserire appunto qua all'interno quello che è lo stick di tabacco. Ovviamente ci sono diverse fragranze che poi nel corso dei video magari andremo a provare. Oggi essenzialmente per andarvi a presentare, raccontarvi un pochino quello che è la mia storia, il perché ho scelto Icos, ma soprattutto quali possono essere giusto così d'amblè i benefici che ho trovato fumando appunto questa penna, questo dispositivo, questo Holder, chiamatelo un po' come volete. Una volta entrati dal tabaccaio, ovviamente il tabaccaio ti dà quelle che sono alcune informazioni sulle fragranze presenti in commercio. Io quello che ti posso consigliare è di farti spiegare essenzialmente quello che contengono i tipi di pacchetti, questi ITS, perché come tutte le cose poi bisognerà magari provarne qualcuno. Io per esempio a me è piaciuto molto il Tech Selection, che in sostanza è un, come dire, tabacco tostato con aggiunta di crema. È molto buono, diciamo che all'olfatto si sente appunto questa sorta di tostatura e chiamiamola crema pasticcera, anche se, vabbè, ha questo sentore di crema. Ecco, un'altra cosa che il tabaccaio non ti dice è che ti ci devi abituare alla Aikos, perché Aikos è un metodo differente di quello che è il fumo tradizionale. Il fatto che tu già debba andare in giro con un caricatore, con questa pennetta, non ti devi far scoraggiare dal discorso magari del giudizio altrui, perché tante volte purtroppo la psicologia fa gioco forte. Detto questo, devi essere tu ad essere convinto a spendere dei soldi, ovviamente perché queste cose non costano due lire, non costano neanche un sacco di soldi, però diciamo che è una spesa tante volte magari inutile che poi si lascia là nel cassetto. Non farlo e soprattutto non ritornare a quelle che sono le sigarette tradizionali perché stai facendo un grande sbaglio. Quindi prima di tutto quello che in realtà tu devi fare è pensare a quello che vuoi realmente. Se tu vuoi trovare un'alternativa a quello che è il fumo tradizionale, allora sì, compra Aikos. Se invece cosa vuoi fare? Vuoi fare una semplice prova? Aikos ci dà la possibilità anche di restituire il prodotto entro 30 giorni. Quindi vai sul sito di Aikos che poi te lo lascerò qua in descrizione e richiedi una prova. Una volta entrati nel mondo di Aikos è veramente una gran bella famiglia perché le persone comunque ti aiutano, anche il tuo tabaccaio di fiducia diventa un po' per virgolette quello che è l'ambasciatore di nuovi prodotti Eats. Capita spesso di entrare e chiedere Ups, scusate. Capita spesso di entrare e chiedere Oh, ma è uscito il nuovo prodotto, i nuovi stick della Eats. Adesso siamo tutti intrepidi per marzo che uscirà una nuova fragranza in Italia appunto che dicono che sia molto molto buona. Io la proverò, ve la porterò sul canale e quindi questo canale nasce un pochino anche per far conoscere diciamo i vari prodotti che esistono in Italia appunto sul commercio. Detto questo ragazzi, io non vorrei tediarvi con un mega discorso già sono a quasi dieci minuti e comprendo che le informazioni sono realmente tante. Io volevo farvi semplicemente questa presentazione di questo nuovo canale e mi auguro e spero che vi possa piacere ma soprattutto che vi possa coinvolgere. A me quello che piacerebbe portare è innanzitutto quello che è la mia esperienza quindi portarla a te che mi stai guardando ma soprattutto cercare un pochino anche di avere, come dire, quella positività da poter condividere e magari tramite le iscrizioni al canale il like direttamente sul video mi dà la possibilità di capire anch'io se quello che sto facendo è una cosa che ti può piacere. Quindi per rispondere al titolo di questo video del perché ho scelto Icos è semplicemente la risposta è ho scelto Icos per trovare un'alternativa a quello che è il fumo tradizionale. Un'altra cosa volevo dirti che se acquisti Icos non devi essere un fumatore compulsivo. Mi spiego meglio. Il fatto di tirare con il nostro holder deve essere un tiro molto rilassato non deve essere un tiro come quello della sigaretta quindi non ti arrabbiare se quando apri per la prima volta il nostro holder e infili il primo stick inizi a fumare e dici ma com'è che questi due tiri sanno di qualcosa e il fumo risulta caldo in bocca e poi non sa più di nulla. Purtroppo ci si deve fare un pochino l'abitudine anche in questa cosa. Detto questo ragazzi io vi ringrazio questo è un primo video scusate se magari ho parlato tantissimo vi ho fatto veramente vedere poco di quello che è di Icos ma ci sarà un video di presentazione della Icos 2.4 Plus dove vi dirò quelle che sono le mie considerazioni in merito a questo tipo di dispositivo. Detto questo se ti interessa l'argomento ti chiedo di iscriverti al canale di mettere un like almeno anch'io so effettivamente se ti piace quello che sto facendo ma soprattutto se vuoi ricevere ulteriori aggiornamenti in ambito Icos Eats, Stick altre aziende quelle che saranno ti chiedo di attivare la campanella. Detto questo al prossimo video ciao